Siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV in primo piano anche in questa edizione. Parliamo di calcio con le società marchigiane, chi deve finire ancora la stagione, chi l'ha finita e sta pensando al futuro e allora proprio di questo aspetto parliamo, cioè di futuro e di futuro dirigenziale. Cominciando dall'Ascoli che sta mettendo insieme tutti i tasselli per il nuovo staff tecnico, a cominciare dal tecnico che sarà Mario Petrone in attesa di essere ufficializzato, attuale allenatore del Bassano. Il suo vice dovrebbe essere con tutta probabilità Andrea Arpili, quest'anno preparatore atletico del Sant'Arcangelo, due anni fa con il San Marino, proprio con Petrone. Dunque dovrebbe essere lui il vice dell'allenatore Campano, di cui si fida in particolar modo a svolgere il ruolo di preparatore atletico. Invece per l'Ascoli potrebbe essere confermato Paolo Amadio. Petrone e il suo staff saranno ufficializzati la settimana prossima, ma già come abbiamo anche accennato ieri si parla di giocatori che potrebbero seguire Petrone all'Ascoli su tutti. Il nome dell'attaccante Berrettoni. Mentre invece una società che si rinforza, almeno dal punto di vista economico e delle partecipazioni, è la Samb con il presidente Monetti che ha chiuso la cessione del 20% delle quote della Samb con un imprenditore. Lui l'ha definito marchigiano. In realtà, secondo Rumors, si tratterebbe di Fedeli, attuale socio di maggioranza del Rieti, ex socio al 50% con Sergio Schiavoni dell'Ancona qualche anno fa. Potrebbe essere dunque proprio Fedeli il socio che affiancherà Monetti nella gestione della Samb che sta preparando e si sta attrezzando per affrontare il prossimo campionato di Serie D. Che quest'anno è stato vinto dall'Ancona. Ancona che domenica si trasferirà a Lucca per giocare l'ultima partita del triangolare di Pull Scudetto. Basta un punto per accedere alle Final Four. Intanto Capitan Viso pensa al suo futuro e lui dice Se mi vorranno, io vorrei ancora continuare a giocare per l'Ancona. Sentiamo. La mia posizione non lo so, non ho ancora parlato con nessuno. Tutti noi credo che vorremmo rimanere. Penso che sia un comune pensiero. Perché è una società importante, si giocherebbe in una categoria piacevole. Quindi io ovvio rimarrei volentieri, però bisogna che tutti siano contenti. Quindi se non rimarrò sicuramente non sarà per un fatto economico. Se saranno contenti tutti, se soltanto qualcuno non vorrà, serenamente me ne andrò. So le mie condizioni. Io giocherò a calcio ancora un altro anno. Spero di giocare qui, se no non giocherò da un'altra parte perché so gli acciacchini che ho, so gestirli. La conferma praticamente vicina di Sandro Marcaccio, secondo te quant'è importante anche per una tua eventuale scelta personale? Ma è chiaro che il direttore è stato il nostro referente. Penso un po' per tutti è stato il credo unione tra i ragazzi e la società. La persona di cui ci fidiamo, una persona che stimo, nonostante abbiamo avuto anche qualche disguido, ma come normale in un anno qualche punto di vista diverso, che poi siamo riusciti tranquillamente da uomini a risolvere, a trovare un compromesso. Penso che sia fondamentale per il salto di qualità, a livello di... Ma questo è un discorso che un giocatore non si deve fare, però mi permette di fare alla mia età, tanto non ho niente da... Non mi interessa, tanto non parlo mai per un interesse personale. Penso che con lui si possa fare un salto di qualità, soprattutto a livello di organizzazione, di impronta. E quindi mi auguro per il bene dell'Ancona che lui rimanga. Queste le parole di Biso e dal calcio. Ci spostiamo al volley perché è arrivata ieri la ufficialità sul prolungamento di contratto di Giuliani con la Lube, altri due anni per il tecnico che quest'anno ha conquistato il tricolore proprio con la formazione di Macerata. Lo ascoltiamo dopo averlo intercettato alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di Andrea Zorzi, che si svolgerà a Falconara il prossimo mercoledì 28 di maggio. Che sarebbe stato ancora lui, il coach della Lube, l'aveva annunciato Patron Giulianelli dopo la gara Scudetto di Perugia. Adesso è anche ufficiale, dopo la firma, sul contratto. Alberto Giuliani, allenatore di Macerata, per altre due stagioni. Per il tecnico 49enne di San Severino Marche, il prossimo sarà dunque il quarto campionato di fila alla guida della formazione cuciniera con cui nei tre anni precedenti ha conquistato due Scudetti e una Supercoppa italiana. Giuliani, in vent'anni di carriera da allenatore, si è costruito un incredibile curriculum partendo dal basso. Negli anni 90 portò a San Severino, squadra della sua città, dalla prima divisione provinciale fino al campionato di B1. Poi tanta gavetta in A2 con Loreto, dove in precedenza aveva vinto anche una Junior League allenando le giovanili, fino alla conquista della promozione in A1 nel 2010 al timone del Corigliano Volley, impresa che gli ha spalancato definitivamente le porte della palla a volo di altissimo livello. Nelle ultime cinque stagioni è stato protagonista di ben quattro finali Scudetto, due con Cuneo e due con la Lube, di cui tre vinte, una con Cuneo ed entrambe, appunto, quelle con la Lube. Si passa ovviamente in maniera bella, perché vince lo Scudetto comunque il traguardo della stagione, è l'ultimo traguardo della stagione, quindi ti lascia un buon... Far sì che questa squadra, questa Lube, che ha già un'intelaiatura, un telaio molto solido, possa essere competitiva anche per l'anno successivo. Dopo Zaitsev, inizio. Dopo Zaitsev e qualche altro aggiustamento, sicuramente lo proporremo per riuscire a essere ancora ai massimi livelli. Ultima sui mondiali, invece. Una manifestazione che attendiamo tutti, perché siamo sicuri che da tifosi della nostra nazionale, siamo sicuri che i nostri ragazzi, di cui ho l'onore e il piacere di allenarne una discreta quantità, abbiano fatto dei passi avanti, sia a livello tecnico, sia a livello tattico, ma soprattutto vincendo anche a livello morale ed emotivo. Quindi siamo molto curiosi di vedere come quest'Italia si potrà piazzare a questi mondiali, ma io ritengo che proprio quest'anno l'Italia ha e avrà una formazione molto competitiva che si posizionerà ai primi posti. E come ha detto Giuliani sulla selezione azzurra, c'è fiducia, c'è ottimismo. La selezione azzurra partirà tra l'altro per la World League, match di esordio domani contro i campioni del mondo del Brasile. Nella venticinquesima edizione della World League comincerà così il suo cammino in una competizione storica, doppio confronto speciale con i verde-oro, una sfida che mancava da più di dieci anni. Nilarga la presenza di giocatori lube in azzurro, come accennato dallo stesso coach di Macerata. Ci sono Baranovic, Kovar, Parodi e Zaitsev. Poi c'è il più giovane della delegazione italiana, che è lo schiacciatore di proprietà della società biancorossa, Luigi Randazzo, classe 94, che dopo loro agli europei 2012 e il bronzo mondiale 2013 conquistati con l'Under 21, quest'anno è stato inserito per la prima volta in nazionale A. Poi ci sono per le World League anche altri campioni d'Italia della Lube, come Podraskanin, Stankovic con la Serbia, Kurek con la Polonia. Ma insomma, quello che sicuramente si percepisce è la voglia dei giocatori che hanno vinto il tricolore con la Lube di proseguire a vincere e di farlo potenzialmente con la selezione di coach Berruto. Un'ultima di basket per chiudere con voci che trovano anche dei sostegni concreti e fondati, quelle che porterebbero l'ex coach della Sutor Monte Granaro, Carlo Recalcati, ad un passo dalla Reier Venezia per quello che riguarda la chiusura di un accordo valevole per la stagione prossima 2014-2015. con un Recalcati che senz'altro ha lasciato un ottimo ricordo di sé a Monte Granaro. Sicuramente sarà anche ricambiato dai tifosi gialloblu che sta per accasarsi a Venezia. È tutto invece per questa edizione di Sport Today. Il prossimo appuntamento domani, il primo come sempre alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.